la duchessa di sussex è stata avvistata mentre comprava fiori e assaggiava miele al mercato contadino di montecito ma aveva qualcuno con lei che non avrebbe dovuto essere lì è stato riferito megan markle è stata avvistata in un mercato agricolo della california senza il principe ferry ed è stato riferito che stava infrangendo una regola chiave la duchessa del sussex è stata avvistata venerdì con il suo beagle e i dettagli della sicurezza al santa barbara certified farmers market poco dopo che il suo documentario su netflix è stato snobbato nelle nomination agli emmy ma il mercato degli agricoltori ha un divieto esplicito per i cani è stato riferito il daily mail ha condiviso un'immagine dal mercato che recita non sono ammessi cani ad eccezione degli animali di servizio riconosciuti vi ringraziamo per la vostra comprensione e collaborazione il daily express usa ha chiamato il mercato per verificare se la regola fosse in vigore al momento della visita di megan ma non ha ricevuto una risposta immediata sulla pagina help del mercato è stato anche segnalato da un utente che non sono ammessi cani al mercato ci sono cartelli ad ogni ingresso aggiungono durante il suo viaggio al mercato megan è stata avvistata mentre controllava i fiori mentre indossava una camicia con colletto e un maxi vestito in una foto pubblicata in esclusiva dal mail la duchessa sembra scorgere i paparazzi mentre compra un mazzo di fiori rosa secondo quanto riferito si è anche fermata alla bancarella di un mercato contadino per assaggiare il suo miele il suo cagnolino è stato accudito dalla sua corpulenta guardia di sicurezza mentre curiosava tra le tende piene di prodotti locali megan è stata avvistata in un'altra divertente giornata la scorsa settimana mentre abbracciava sua figlia li libet mentre partecipavano a una parata del 4 luglio vicino alla loro casa di montecito da 14,7 milioni di dollari giornata Beri